generale da qualche giorno qui a caserta al comando provinciale dei vigili del fuoco innanzitutto qual è stato l'impatto che ha avuto e la sua esperienza lunga esperienza intensa un po' in giro per l'italia sicuramente le servirà adesso qui a caserta l'impatto sicuramente è stato positivo, non lo dico per circostanza ma non pensavo a un comando così avanzato probabilmente grazie anche alla capacità dei comandanti che mi hanno preceduto, la capacità dei miei funzionari ma soprattutto alla grande professionalità che ho riscontrato nel personale che opera in questa realtà bella realtà e me lo faccio a dire, bella per noi vigili del fuoco dal punto di vista professionale perché per noi è una realtà complessa, è una realtà che comunque è una realtà complessa dal punto di vista operativo è una realtà che comunque affascina perché comunque ci fa crescere e perché ci consente di dare qualcosa al prossimo, di dare qualcosa di più io sono stato al comando di Arezzo, una realtà completamente diversa, un comando sicuramente più tranquillo un bellissimo comando, una bella zona ma sicuramente dal punto di vista operativo più tranquillo rispetto a quello che io ho letto fino a ieri nelle cronache dei fatti di soccorso qui nella zona di Caserta devo essere sincero, non conoscevo la città di Caserta, la provincia di Caserta ricordo che quando andavo con mio papà in Puglia passavamo per Aversa ma in genere noi da Roma andiamo a Roma-Napoli, passiamo per Caserta ma poi difficilmente ci si ferma quindi sono rimasto veramente impressionato, positivamente, sempre molto positivamente non me l'aspettavo così, un territorio che ha le sue difficoltà sicuramente ma è un territorio che può dare molto sicuramente e che dà molto in termini di umanità questo è quello che io ho visto parlando questi due o tre giorni che sono stato qui quasi fisso al comando con i miei vigili del fuoco devo dire sinceramente ma senza peccare di presunzione non mi spavento della terra dei fuochi assolutamente anzi voglio essere, è un mio obiettivo, essere a fianco ai miei uomini per tutelarli, per aiutarli per portare il mio contributo professionale che anche per un po' di fortuna è stato piuttosto importante perché ho avuto la fortuna dal punto di vista ovviamente professionale a essere presente diciamo nelle situazioni più difficili per cui sono cresciuto e quindi io credo di essere arrivato qui in questa città ormai maturo, maturo per dare un aiuto e per poter fare qualcosa di buono io me lo auguro